Sono cresciuto in azienda, da piccolo giocavo all'interno dell'azienda con i miei fratelli e i miei cugini. Il trasportatore di allora veniva con un carro trainato dal cavallo e noi da bambini aspettavamo questo corriere e saltavamo appena entrava nell'azienda dal cancello al magazzino, saltavamo sul carro. La nostra storia inizia nel 1889, il mio bisnonno iniziò con una bottega di piccolo artigiano. Oggi posso dire che la nostra azienda, la nostra famiglia ha compiuto due miracoli. Il primo è stato quello di essere arrivati a questo livello portando appunto l'azienda da piccolissimo artigiano a quelle che sono le dimensioni attuali. Ma il secondo miracolo, che è quello più importante secondo me, è stato quello di riuscire a tenere legate, coordinate 5 generazioni, 5 intere generazioni. Una famiglia che io ritengo di considerare una famiglia allargata perché l'azienda che noi oggi abbiamo non è solo patrimonio della famiglia Ballarini, l'azienda sia veramente di una famiglia che è molto più ampia, che è la famiglia del paese. Una dipende dall'altra. In quegli anni, intorno a 1960, ci fu la scelta strategica decisiva che condizionò poi tutto il futuro dell'azienda, che fu quella di investire nella produzione di prodotti con rivestimento antiaderente. Io ricordo i primissimi prodotti che venivano fatti manuale con delle spugne e delle applicazioni molto, molto manuali. Oggi, in ultima generazione, robotizzati. La cucina italiana è ricca di ingredienti, profumi, sapori. È veramente parte del nostro DNA. Ancora oggi, proprio perché noi ce l'abbiamo nel DNA, diventa facile per noi scegliere lo strumento di cottura. L'antiaderente è lo strumento fondamentale per poter cucinare con meno grassi, con meno oli, con meno condimenti, ma ti permette di esaltare i sapori degli ingredienti. Brand Ballarini non è soltanto lì per offrirgli qualità e il miglior strumento, ma che è un'azienda che segue anche le necessità del consumatore. Io credo che i nostri nuovi plant sono uno dei più completi di cottura in Europa e magari anche nel mondo. E quindi i nostri prodotti di cottura sono molto orgogliosi di lavorare con noi, perché abbiamo delle richieste molto demandanti. E quindi sappiamo che quando Ballarini si è soddisfatta, si può soddisfare tutti i loro clienti. I fattori che hanno caratterizzato appunto l'azienda sono la qualità del prodotto, mantenuto l'apparato produttivo in Italia, e questo è stato un grosso vantaggio, il rispetto delle persone e il rispetto dell'ambiente. La maggior parte dei nostri lavoratori vengono da Rivalolo e quindi noi vogliamo rispettare la nostra città e i nostri lavoratori. Tutti in Rivalolo hanno uno parente o uno che lavorano in Ballarini e quindi la compagnia ha investito nel rispetto dell'ambiente, nell'acqua, nell'acqua e nell'acqua, nell'acqua, nell'acqua e nell'acqua. Le cose più importanti sono le persone, perché alla fine i prodotti sono stati da persone, quindi la passione delle persone è molto importante, ma noi cerchiamo di ottenere ogni giorno un risultato migliore e di creare un prodotto con un miglioramento continuo e un risultato continuo. Io direi che Ballarini è il ferrari dell'aluminio Gnostic Cooper.